Dissetarsi o lavarsi con acqua che potrebbe essere inquinata, il rischio è per i residenti della zona compresa tra i villaggi di Spartà e Mortelle dove non sono ancora stati realizzati impianto fognante e condotta idropotabile, lavori bloccati sul nascere per banali problemi burocratici e dopo ripetuti solleciti il consigliere comunale Domenico Guerrera ha deciso di presentare un esposto alla procura della Repubblica di Messina chiedendo che sia la magistratura a fare luce sui ritardi. L'assenza di un impianto fognario a Messina Nord tra Spartà e Mortelle è obbligato i residenti a dotarsi di pozzi neri che nella maggior parte dei casi non sono a tenuta stagna. La conseguenza riferisce Guerrera l'inquinamento delle falde acquifere sotterranee con i relativi rischi per la salute dei residenti. L'AMAM ha già eseguito uno studio per la realizzazione della condotta idropotabile attraverso due pozzi di proprietà dell'azienda in località Casa Bianca ma nonostante siano già stati espletati tutti gli adempimenti, gara d'appalto compresa, manca ancora un'autorizzazione, quella dell'AMAM, per avviare lavori da realizzarsi ai margini della strada statale 113. La richiesta era stata regolarmente inoltrata il 12 marzo 2012, poi reinviata con le integrazioni al progetto richieste proprio dalla società autostrade il 9 gennaio del 2013. Da allora nessuna risposta. Guerrera giudica intollerabile un simile ritardo e chiede l'intervento della procura al fine di garantire ai cittadini un servizio di primaria importanza.